Beh, penso che sia una tematica, un tema rivoluzionario e molto accattivante sotto certi aspetti perché mai come in questi ultimi anni penso che il cibo in generale, il food, si è entrato un po' nell'immaginario collettivo con un focus se vogliamo quasi modaiolo per quel che concerne il primo mondo, mentre magari un focus diverso e probabilmente di primaria importanza barra vitale per le popolazioni del terzo mondo, per cui questo tipo di abbinamento io credo che sia una cosa più che giusta e anzi debba servire per poter cercare di alimentare sempre di più e non far smettere mai di pensare che alla fine il cibo bene o male è sempre un qualcosa di straordinariamente importante ed indispensabile soprattutto per altre popolazioni. Penso che la cura del cibo, la cura dell'alimentazione alla fine sia un discorso anche di ordine tuo psicologico, di ordine chiaramente mentale, di ordine fisico e credo che per raggiungere tanti obiettivi importanti e per mantenere sempre una performance molto alta, io credo che il detto men sano e incorpore sano vada proprio a pennello, calzi a pennello. Il mio cibo preferito non è da sportivo sicuramente, però io vado vado matto per la carbonara, la carbonara non ammazzerei ma ferirei gravemente qualcuno per un piatto di carbonara, sì. Due, sicuramente rivoluzionaria e poi rinnovamento, quello devono essere insomma le chiavi per poter far sì che questo evento lasci veramente un qualcosa di importante dentro ognuno di noi.